Lo so, è un'inquadratura molto molto ravvicinata ma non volevo spoilerare da subito lo sfondo Faccio un po' come Prismatic 3.10 Quest'anno mi sono veramente impegnata per le decorazioni casalinghe e infatti vi volevo portare con me in questo mini vlog, diciamo così un mini tour del mio salotto in cui ho allestito un po' di cose a tema Halloween però decisamente questo angolo è quello in cui ho messo più impegno e sono felissima vediamo un po' che cosa ho combinato E tutto è iniziato qualche giorno fa quando mi sono recata da Tiger per scovare qualche addobbo qui mi vedete mettere le mani su qualunque oggetto all'interno di Tiger Aprendendo una pagina andiamo a preparare la pagina a Starbucks perché hanno messo il pumpkin spice latte finalmente. Più tardi sono arrivata a casa e ho iniziato a ritagliare pipistrelli. Qua vedete tutto velocizzato, in realtà c'è voluto tantissimo tempo. Poi ho tirato fuori le mie vecchie decorazioni di Halloween, qui c'è un pipistrello, poi queste corna rotte, una scritta trick or treat, altri pipistrelli, mi piacciono i pipistrelli, non so se si è capito. Ah, qui c'è la famosa scritta Boo che abbiamo ormai da tanti anni, che ci accompagna. Un altro pipistrello. Dei fantasmini molto carini e un altro cerchietto strambo. Oh, e queste sono le boccette di veleno che sono state le protagoniste di un vecchio video sempre a tema Halloween. Qui cerco di sistemare tutti i pipistrelli sul muro in modo da creare una sorta di sciame, stormo, non so come si dica. Un insieme di tanti pipistrelli che svolazzano sul muro. Eccomi qui con le ragnatele finte, con ragni annessi. Queste le ho sparse un po' in giro tra i quadri in modo da creare questa atmosfera un po' creepy e un po' schifosa. A me fanno un po' schifo i ragni, quindi ci sta. Ecco, ho fatto anche cadere il quadro. Brava, brava. Grazie. 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 Una volta sistemate tutte le decorazioni è venuto il momento della mia parte preferita, le lucine. Ed ecco qui. Meraviglia. Grazie a tutti. Appena si entra davanti alla porta di casa c'è lui, il piccolo pipistrello che avete visto altre volte in realtà. Agli archetti rossi ma non si vedono. Tra l'altro penso ci sia un rimbombo, ma scusate, scusate. Qui di lato c'è la famosa pozione, non una pozione anzi un veleno che abbiamo fatto qualche anno fa, nel caso vi lascio qui in alto il video. Qui ci sono i piatti sporchi che non faremo vedere. Ho messo qua sopra la scritta trick or treat, perché, perché no. Qua c'è un'altra porta in cui ho invece attaccato questa ghirlanda fantastica che ho preso da Tiger con le zucche. E' carichissima. Guardate che meraviglia. Qui ho attaccato dei pipistrelli che rimangono penzolanti. E poi qui ho messo Boo e un altro pezzo delle pozioni. Poi qui c'è un teschio e anche Ade, che se vogliamo fa anche lui un po' Halloween, perché è un po' cattivo. E poi veniamo a lei. La mia creazione più bella. L'angolo divano, come anche Matilda. Che sta fissando il vuoto. Qua c'è questa lapide. Poi qui ho messo dei fantasmi. Altri vari pipistrelli, lucine, ragnatele, ragni. Questo cartello con la scritta Happy Halloween. E poi qui c'è uno dei miei acquisti migliori. Ovvero questo portacandela, si chiama così, a forma di Jack. Devo dire non fa tantissima luce in realtà, perché la candela che ho messo dentro è troppo piccola. Però è comunque carino e fa la sua porca figura. L'ho preso dal Disney Store. E poi qui c'è il mio calderone da strega, con alcune caramelle halloweeniane. Ma devo ancora riempirlo, devo ancora acquistare altri dolciumi. E niente, quindi questo è il tour casalingo delle decorazioni di Halloween. Molto breve, lo so scusate. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi avete arredato casa o addobbato in qualche modo, se avete messo qualche ragno o pipistrello qua e là. Questo da qui fino a fine ottobre sarà il nostro secondo video, perché voglio dire... Bellissimo! E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Buongiorno! Grazie a tutti